Stiamo nuovamente navigando. Dopo diversa strada fatta off-road, stiamo nuovamente sull'acqua. E' una cosa incredibile. Fiumi qua da passare di continuo, che balze da tendere ore, 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 per non dire giorni. Comunque questa sera c'è una bella sorpresa. C'è qualcuno qua che ascolta. Oltre al trasferimento, cosa abbiamo? Stasera ciurraschino. State attenti a vedere cosa vediamo stasera. Abbiamo qua tutti i curiosi che preparano. Preparazione ciurraschino. Si presenta una notte interessante. Musica ciurrasco e birra. E dove passiamo la notte? Beh, qua, vedete? Qua, stanno già festeggiando. Qui passeremo la nostra notte. Qui passeremo la nostra notte alla viaggio sulla balsa, traghetto chiamata balsa. Questo è il nuovo equipaggio che si è aggiunto a noi questa sera. Abbiamo Rodrigo e Gio Paolo. Alla prossima, eh! Alla prossima, eh! Grazie a tutti.